Beh, Liga Montari, bentornati. Qui Yoshi, oggi siamo qui con un video per tutti quelli che hanno preso il gioco oggi, quindi praticamente con la standard, quindi senza FIFA Points, senza bonus, senza nulla. Oppure anche coloro che magari, sai, hanno preso l'Ultimate, però l'hanno presa un po' più tardi, ancora la dovevano prendere, non sanno se prende il gioco e così via. Quindi cosa fare con quei 4600 FIFA Points, oppure cosa fare appena sei catapultato all'interno del gioco, effettivamente, e non hai nulla, nel senso non hai veramente nulla, zero. Allora, io l'ho fatto pure in live col secondo account, dovevamo fatto una specie di rottocolori, poi magari uscirà pure su YouTube, proprio la serie che devo dire è simpatico da fare in live, con determinati limiti, senza shoppare, senza fare niente, partendo veramente da zero credit. Allora, la prima cosa, la prima cosa è che quando vi fa scegliere le magliette, quando avviate il team per la prima volta, andate a vedere le magliette che possono essere più rare, item e gli stemmi. Voi fate controllare da un amico, oppure andate a vedere su Foodbin, quelli più visti, quelli più ricercati, e da lì partico scartando, oppure vendendoli, almeno 1000, 1500, 2000 crediti. Poi se ti dice bene puoi trovare qualcosa che è magari intorno ai, anche 4000, 5000 sul primo account, sul secondo account, mi era capitato di trovare degli stemmi argento, se non sbaglio quello del Middlesbrough, che costava, ha venduto a 3k9, a 3.900, e già lì inizi con 5000 crediti comunque, con quei 5000, che cosa fate? Con quei 5000, andate su SCR e vi fate le basi, iniziate con basi 1, 2, 3 e 4, e così via, e 5. Piano piano vi sblocca, i giocatori prendeteli all'asta, i bronzi quelli che avete nel club, le prime si fanno con quelli con i giocatori iniziali del club. Dopodiché, una volta che vi servono i giocatori, fate le offerte all'asta di 150 crediti, se riescono a fare tutte tranquillamente. Una volta che avete fatto questo e fate gli obiettivi, vi dà dei pacchetti oro, un'altra, due, tre cosette, in teoria con quei pochi crediti che avete, riuscite a fare gli incontri principali. Bella che è notare qui Yoshi, che vi ricorda che anche quest'anno è possibile acquistare i creditini per i EFC24, che sono appena usciti, con un servizio ottimo di cashback, sono veloci e sicuri soprattutto. Ovviamente con il codice sconto Yoshi del 10%, ecco qui quando lo potete applicare vi sconterà, ci sono per tutte le piattaforme PC, Play, Xbox, EFC24, Mobile. Inoltre hanno tanti altri servizi per altri videogiochi e anche per gli EFC, quindi dateci un occhio. Io vi do un bacione, fatene buon uso e ciao! I conti principali sono buoni perché sono pacchi scambiabili. Da lì, vendendo tutto quello che trovate, si riesce ad arrivare intorno, che qua già l'ho fatto appena usciti perché sono un maniaco, si riesce ad arrivare intorno ai 5.000-10.000 crediti, dipende da quello che trovate. Dai 5.000-10.000 crediti sicuramente la cosa migliore è buildare una squadretta abbastanza scarsa. Prendete una squadra veramente, ad esempio, tipo quella da 20.000 che ho fatto sull'account, ma ormai veramente fate... Cosa migliore probabilmente senza che impazzite per le ibride e così via, andate a prendere Muriel, andate a prendere Deulofeu. Sono giocatori praticamente a scarto, vi fate una serie A bagatissima e andate a fare le battle, vi fate un po' di battle. E la cosa, se avete un po' di tempo, qual è? Andate su obiettivi. Ovviamente se avete appena iniziato a giocare, non potete fare questo qui perché vi serve un Nike Ready in squadra. In teoria, se vi fate invita da un amico che c'ha il Nike Ready in pressito con l'ultimate, vi dà le 20 partite e vi dà dei pacchi interessanti pure qui. Però andiamo avanti, se non avete la possibilità di farlo, andate in, per quanto riguarda Maestria Assist, con 400 assist prendete un 100k non scambiabile, da lì in genere un paio di giocatori per comporre la squadra escono. E anche Maestria Finalizzazione con, quest'anno hanno messo pure meno gol, 250 gol, si fanno, prendete i Rarimaxi, un altro 100k che è ottimo. In più, con un amico, se vi fate invitare, vi sbloccate 250k. Occhio però al soft ban. Che succede? Se vincete, praticamente l'amico vostro vi invita e vi guitta 30 partite, probabilmente dopo 30 partite vi prendete un soft ban. Quindi non potete più avviare le partite, cioè mi capita in chat che mi fate io, ma che succede nel momento in... perché quando finisco una partita il gioco mi butta fuori e non mi calcola il risultato anche se ho vinto? Perché probabilmente prima di quella partita online vi siete beccati con l'amico vostro online, vi siete regalati varie partite a vicenda e dopo che ne fate più di un tot in un brevissimo lasso di tempo vi prendete questo soft ban. Gli altri anni durava 30 minuti, ho notato che quest'anno per chi lo prende dura di più. Può durare un'ora, due ore, in teoria fino a un massimo di 12 ore. Quindi fatene, che ne so, 10, 15 vittorie voi, vi fermate una mezz'ora, un'ora, poi gli è data a lui e così via. Fatelo nell'arco di un pomeriggio, di una giornata, anche due, però non esagerate. Eppure qui sono 250k, comunque che sono tanta roba. Poi, per chi vuole mettere due FIFA Points, io ho il modo migliore per spendere i FIFA Points. Qual è? Allora, tecnicamente, o vi aprite quei promo, però è ovvio, è sempre cercare a bottare il culo. Oppure vi fate, se siete buoni a giocare, draft online. In questo momento, visto che oggi è 29, in teoria ci va un bel po' di gente a fare i draft. Perché ci va pure chi ha appena trovato il gioco, chi ci mette 20 euro, si va a fare tutti i draft a stecca e così via. Quindi, insomma, già che arrivate per 300 FIFA Points, vincete il secondo turno del draft. Diciamo che già col secondo turno del draft riuscite senza troppi problemi a rientrare della spesa e a guadagnarci un po'. Oppure, se avete tempo da perdere, magari vi è stata a vedere una serie di vunce, avete niente da fare, draft offline. Perché il draft offline? Perché mettete la difficoltà più bassa. Vi prendete in media 500 crediti a partita, quindi arrivate alla fine, che so, 2000 da una parte. Un 7,5 e un 15k. Il 7,5 costa 150 FIFA Points, il 15k ne costa 300 e il 2000 crediti in media li fai col 350 FIFA Points. Quindi, spendendo 300, prendi circa 600 FIFA Points. Quindi raddoppi un po' il valore dei FIFA Points. E quella è la cosa migliore. Chiaramente ci metti di più, però è il modo, se non siate tanto bravi a giocare, volete iniziare con un piccolo budget, se ci avete quei 20 euro, ci perdete un pomeriggio a farvi draft offline. E nel mentre che fate i draft offline, sfruttate la maestria assist, fate i 400 assist, fate i 250 goal. Quindi vi prendete anche 200k. Dal pass, io ho, dal pass, dal pass, dal pass. Dal pass, io ho, che prendo? Dal pass prendo il 2 giocatori 84 o 10 80 più. Allora, ne ho aperti un po' in live. Ho aperto anche in me, ovviamente, io vi dico, 2 84 più, da cui mi è uscito anche Bellingham. Ma anche in live, in generale, ho visto che i 2 84 più hanno un drop migliore, ma anche perché le carte 80 più sono veramente tante, anzi troppe. Poi qui che c'abbiamo 2 80 più, ok. I 5 84 più o i 10 83 più. Io vi dico, 5 80, oppure quando abbiamo aperto un po' e un po', già qui, secondo me, la scelta, siamo lì, è molto simile. Forse sceglierei i 5... Io ho scelto i 5 84 per andare a togliere tutti gli 83 che ci sono in giro. Però, secondo me, cambia relativamente poco, ok. Qui andate voi, per me, 5 84, comunque. Poi, ovviamente, gioca tutte le partite per i vari punti obiettivi che vi danno i pacchi non scambiabili del pass. Da basi, pure, quando iniziate a creare determinate SBC, le prime, vi dà un po' dei crediti da raccimolare. I compro ora sul mercato item, vi danno altri crediti che vi consentono di andare un minimo avanti in quelli SBC base di cui parlavo prima. E poi, ovviamente, c'avete le Rivals. Ah, e un'altra cosa, le Battle, se le riuscite a giocare in... in Coop, cioè, fate sia Maestria Squad Battle che Maestria Coop, ok. E Maestria Coop, anche qui, vi dà due giocatori 75-83 ogni volta che... Allora, non so chissà che cosa, però, in realtà, non sono malvaggi. Perché? Perché vi danno... Negli 83 ci stanno tipo 82, Fernand Mendeap e Div, quindi ci sono giocatori validi con overall non troppo alti. Poi, 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 poi. Qui, ovviamente, Maestria Draft hanno fatto i pochi, però anche qui due pacchettini li riuscite a prendere. E in più, cosa importante, una volta che avete buildato la squadra, potete utilizzare anche i prezzi che vi vengono dati, andate su Gioca, andate su Momenti, si fanno in una mezz'oretta. E, allora, intanto andate nello shop, e se vi serve qualcosa per l'overall, dici, non posso fare i momenti con i bronzo, su Stagionali, il primo pacco sulla sinistra l'ho riscattato, è la Sam Kerr, quella 90 overall del Chelsea, che è forte, ok. A 60 stelle riscattato da me c'è un pacco, 50.000 crediti, giocatori rari, scambiabile. Lo fate tranquillamente. Una volta che vi siete dati ai basi, ai conti principali, ma anche con i bronzi a livello esordiente, potete entrare e fare la prima cosa che fate in assoluto, se magari siete a corto di crediti, è farvi tutte queste sfide qui. Con calma, tanto sono a difficoltà bassissime, so tiri, so passaggi, so cazzate, tipo effettua 10 passaggi da su terra esordiente. Una volta che ho accumulato 60 stelle, vi aprite il 50k scambiabile. Vuoi o non vuoi, per forza te cose, so almeno 10.000 crediti. Eppure quelli, nel saccoccione. E da lì fate per forza gli incontri principali, ok. Altra cosa che ci abbiamo poi. La squadra ve l'ho detta, come buildarla? Le rivals. Le rivals... Beh, divisione 10 trovate più o meno ora come ora, col fatto che il gioco è uscito da un po', tutti quelli che stanno come voi, ok. Quindi tutte persone che so appena il gioco appena preso, ci hanno magari pure il bronzo, vanno subito i rivals che vogliono giocare live, non vogliono stare presso, abbatto, le altre situazioni. Però vi dico, le rivals, onestamente, Penus Madonna Troppo è l'ultima parte dove andrei a mettere mano. Perché così ci andate con una buona squadra e tanto per prendere i premi, cioè più che altro le rivals, ragazzi, non pagano. È quello il discorso. Perché io ho aperto i premi su tre account questa settimana e con questo sto pure in cinque e non ho trovato niente. I premi sono ridicoli, ve li danno con sette vittorie, quindi le potete fare con calma. Tanto la scalata non serve un cazzo perché prendete giusti i crediti di partita. Sono abbastanza inutili. Rispetto magari alle battle che vi giocate in coppa con amicoli la sera e vi posso dire che ha visto che il gameplay è abbastanza divertente e hanno dimezzato il tempo. Adesso dura effettivamente di meno. Il mio suggerimento è se dovete giocare battle, giocatele da PS4 e non 5 perché su 5 hanno la CPU. Già su 4 ogni tanto hanno le partite che impazziscono e giochiamo sempre a estrema, sono infattibili. Ma c'hanno effettivamente la durata che è più bassa e la CPU è più scarsa rispetto a PS5. Oltre a questo, CPU, PS5, squad battle, i premi sono buoni perché ok, ti fai le varie partite però ti sblocchi volendo anche la cosa dei gol e gli assist, il tuo livello e i premi, regà, sono 250k e 22.000 crediti. Cioè sono 100 volte meglio rispetto alle rivals come premi. Mi dirai, eh, boh, sì, però che palle ha la CPU. Sì, però durano molto di meno. Vi fate, tra parentesi, altri obiettivi volendo perché se avete due spiccetti andate a prendere due giocatrici buggate del campionato femminile della Liga e vi prendete tipo questa qui, Baba Icide, che non è brutta per iniziare. In più per iniziare vi potete fare le evoluzioni gratis. Non guardate questa da 50.000 crediti ma ci sono l'aggiornamento con un bronzo da mettere dentro. Questo ho fatto anche un altro video con le evoluzioni quindi questo è un altro modo per boostare i giocatori che avete ma anche i carciatori che so abbastanza scarsi che costano 700 crediti li mettete dentro e fate le evoluzioni. Pure le evoluzioni sono obiettivi quindi pure lì prendete altri pacchi. Quindi diciamo che sicuramente non è necessario iniziando mettendo soldi. Lo ho dimostrato pure in live. Cioè ovviamente se questo è il primo account ci mettiamo tutto bello bla 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 però sul secondo account ve l'ho dimostrato tranquillamente in live perché si può iniziare senza. ma anche perché poi tanto i giocatori costosi costano veramente tanto cioè c'è stamba a pesca a 3 milioni e così via gli altri Zico, Bobby Charlton e tutto quanto. Quindi non è che conviene tanto. Riguardo all'ultima cosa che è secondo me le versioni meglio PS4 o PS5 Next Old Gen io sto a giocare su entrambe sono molto simili in realtà però personalmente anche quest'anno preferisco PlayStation PlayStation 4 cioè il gameplay di Old Gen perché perché c'è meno CPU e anche se i giocatori si muovono un pochettino peggio però ho notato che effettivamente la CPU è molto inferiore e ti devo dire che mi risulta anche più facile difendere su Next poi io ve lo dico sempre cioè nel senso se non devi competere se non devi fare i tornei le cose cercate che ti dicono eh però vedi l'Old Gen ancora nel 2024 e io cioè compro il gioco per divertirmi no per smadonno sicuramente al 100% però cerco pure un modo per deve essere divertente cioè deve dire il gioco mi deve far dire ok famosa è un'altra partita famosa è un'altra partita famosa è un'altra partita perché vinco o perdo mi diverto uguale quindi provatele entrambe perché quest'anno con la standard e sia con standard che altimeter danno entrambe le versioni sia 4 che 5 su 5 sicuramente ho notato che i giocatori più grossi sono più forti perché tipo Lukaku mi sono sembrati sicuramente più efficaci su Next che su Old però l'idea mia il suggerimento mio è sempre quello di provare a giocare entrambe le versioni poi tirate le somme su quale delle due vi piacete più e giocate a quella sì cazzi cioè il discorso è che te devi divertire non è che devi stare là a dire no perché ho 5 devo giocare su 5 no il gioco dove mi piace dove mi diverto di più semplicemente detto ciò ragazzi io vi do un bacione lasciate due domande sotto se vi serve qualche altra indicazione su come muovervi a inizio FIFA e ci vediamo come al solito alla solita ora su Twitch ciao